Siamo alla pausa del dodicesimo livello qui al day 3 e siamo in compagnia di Robby Begni. Robby, come sta andando questo main event? Purtroppo sta andando male. Sto alla seconda pausa, mi sono rimasti 11 bui, probabilmente devo pushare anche perché sono di piccolo buio, sto aspettando una mano. Purtroppo non ho avuto buoni spot da giocare, alcune mani le ho aperte ma c'erano degli altri corti, ripusciavano, ho dovuto foldare coppiette e non giocare male lì. Alla fine sono stato card dead, non si può fare niente. Ti abbiamo visto al tavolo con un altro italiano, con Cristian Nuvola, vi siete incontrati in qualche mano? No, no, sono al tavolo con Ninetto, lui era partito con 160K, quando io ne avevo 50, quando sono arrivato a quel tavolo lì, di per sé scontri no, c'è stato flattato una coppietta con lui, ma alla fine erano dentro altri due giocatori. Nessuno scontro con lui, non le voglio neanche fare, se non sono mostrande non me le gioco. Ok, va bene, allora in bocca al lupo per questo rientro in action, speriamo di trovarti in Double Up. Grazie, speriamo, in bocca al lupo anche a noi e tutti quanti gli italiani che sono ancora in gioco.